Grazie a tutti. Quarta scuola dove lo propongo. Mi auguro stasera, domani, di poter scrivere sul Facebook o sul mio sito che questo applauso è stato lungo, lunghissimo, vero, sincero. Quindi ragazzi, se vi va, tutti in piedi, ricordiamo con l'applauso dei nostri morti, facciamolo sentire alle loro famiglie per farlo sentire meno solo. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.